Una donazione l'ennesima agli infermieri, dove andranno questi guanti? Questi guanti andranno a tutto il settore del territorio, quindi del distretto territoriale di Arezzo e soprattutto anche alla salute mentale. Questi guanti serviranno per tutte le attività in questo momento necessarie come l'esecuzione dei tamponi ma soprattutto anche per i vaccini nelle varie RSA. Grazie al Presidente Sassoli del Calcit che ha risposto prontamente alla domanda della richiesta dei guanti. Una donazione che non sarà stata questa la tempistica ragionata a monte, ma che arriva dopo pochi giorni di questa brutta sorpresa che avete avuto nella vostra sede? Sì, è meglio pensare alle belle notizie piuttosto che alle brutte, pertanto è bene dare delle risposte ai cittadini piuttosto che pensare a questi danni futili che sinceramente non ci danneggiano ma danneggiano chi le segue. La generosità degli aretini, del comitato non ha mai smesso in questo anno che ci lasciamo alle spalle, il 2020 e tuttora nel 2021, nonostante l'incontro delle persone, quindi anche la raccolta fondi sia stata immagino più faticosa? Sì, la raccolta fondi è stata faticosa nel senso che non abbiamo potuto svolgere quelle che erano le nostre attività normali, però di contro la città diciamo che non ha mancato di sostenerci. La donazione di questa mattina, che credo obiettivamente che non sia una mancanza da parte della USLE, ma possa essere qualche piccolo incidente che in un momento così complicato può accadere, ovviamente tramite l'ordine degli infermieri se ci arriva una richiesta, noi in tempi velocissimi cerchiamo di esaudirli. Penso che i soldi dei cittadini spesi in questa maniera per dare sicurezza agli operatori sanitari siano spesi bene. Quanto serviva questa donazione? Serviva molto perché noi come salute mentale siamo impegnati non solo sul territorio per quello che riguarda i problemi di natura psichica, ma anche ci uniamo a Lusca per i tamponi e per tutte le attività di prevenzione al Covid. Siamo al drive-thru della stazione e svolgiamo tutti i giorni tamponi. Servono tanti guanti, veramente tanti, considerate che ci vogliono tre paio di guanti nella vestizione e cambiarne almeno un paio per ogni paziente di continuo. Quindi è fondamentale avere sempre i guanti e di tutte le misure perché chiaramente indossando guanti di varie misure ci facilita la possibilità di indossarli perché se no non ce la faremmo. Quindi c'era una mancanza e mi fa piacere che il Calcit e soprattutto l'Opi abbia risposto immediatamente alla nostra richiesta. È una frontiera la vostra, insomma, sempre attiva, no? Perché si parla di tamponi. Tra l'altro mi pare di ricordare che anche in questo periodo che ci lasciamo alle spalle, quindi le festività, comunque ne avete fatti tanti. E poi ce n'è sempre bisogno, insomma, è un qualcosa che non si ferma mai, almeno per il momento. Sì, certo, l'attività del territorio, quindi le USCA, sono sempre sul campo, diciamo, in prima linea perché anche se adesso un pochino l'emergenza si è, diciamo, calmata, tranquillizzata, anche il numero di tamponi si è ridotto, però siamo sempre attivi appunto alla stazione con il drive di indicatore, oltre che le varie attività domiciliari e anche in questo momento le vaccinazioni nelle varie RSA, perché quelle le stiamo facendo noi come territorio. Quindi anche questa donazione è molto importante perché c'è una carenza di guanti in questo periodo, se ne stanno utilizzando tanti e quindi l'OPI, come anche il Calcit, ogni volta che noi chiediamo, loro sono sempre stati disponibili a fornirci dispositivi e tutto quanto necessario per la nostra attività. Ecco, lei ha detto c'è un calo nei tamponi, ma ci si può aspettare invece che questi numeri possano tornare a salire? Ci può stare, sì, stiamo infatti tutti tremando un po' aspettando questa terza ondata. Speriamo che sia un pochino ridotta con i numeri rispetto alla seconda, però non sappiamo ecco quello che aspettarci sinceramente, soprattutto dopo queste festività e la chiusura delle scuole e in questo momento adesso la riapertura.